E benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Tax678 e benvenuti in un nuovo episodio di Metal Gear S1050 Pantopay, no, benvenuti in un nuovo episodio di ma prova a non ridere challenge. Allora ragazzi, non si tratta, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un mi piace, commentare, condividete come lo assumisci, attivate la campagna, iscrivetevi al canale che vi è sotto in descrizione, vi rispondete ai precedenti sondaggi e non vedete episodi di Metal Gear S1050 Pantopay e di Fier 1. E adesso io direi, possiamo anche iniziare con il Best Meme Compilation B62. Iniziamo! Iniziamo già male. Va bene? Ops, sorry, compa mia. Ok. Madonna, le orecchie. Adesso mi sono qui. Adesso, non lo capito. Oh, porca. Ah, qui. Ok. Ah, qui. Come vedete se c'è la rida Dai Cosa? Non ho capito Vorrei vedere Ok Dato che questo video dura 10 minuti Ne farò un altro video Quindi non vi preoccupate Ci sarà un altro Madrix Che c'entra Vabbè con reverse è più facile Ok Ahia la gamba Stai andando a dire Dai Si va a buttare Sì funziona Ok Non ho capito No 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 Oh 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 Can Ma cosa? Ma che c'entra V173 Che c'entra La statua Ma cosa? Vabbè Che c'entra E' Ma che c'entra va bene ok ok iscrivete al mio canale perché è molto bravo a fare queste meme no cos'è sta roba ho pensato malissimo scusate mi vuole che l'hanno un'chiavita no 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 ok va bene acqua posso aiuto e a favore che lo lanci al qualcuno in facciamo sei no 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 che ca di sottofondo si sente la musica di Avengers me l'ho che... non capisco no no infatti ti sta scuscando il cappello Aspetta questo lo voglio chiarire DailyCraft 72 è la esperienza con i creeper E questo lo dico La esperienza E' la madonna Suga Ok E' la madonna Casino Ok 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 Perché sapendo non lo sape DailyCraft 72 è il mio spanchino direttamente Dov'è il golem? Help Eheheheh Mi è stata in truccata Eheheheh Ma ti dai capelli GTA 5 Con la Leicester e Michael e Freydey Con la Leicester e Michael e Freydey Con la Leicester e Michael e Freydey Eheheheh 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 Ma che cazzo No What? Ma la fa- No Eheheh 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 Oh che cazzo Sto' andando Eheheh 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 Oh che cazzo Dovebbe esser tre tipo Ciao Ciaooo Eheheh Il passo Quanto è brutta Dai è una cosa crudella No questa l'ho già vista Non mi fa più ridere mai E questa è io ruba la telecamera Ma quanto è bella la faccia di quest'uomo Cioè È bellissimo Anche la solizzata Quindi vai No Non mi fa più ridere Non mi fa più ridere Ma cosa? Ma da quando? Poi vanno a domicare gli uomini che mi vanno a domicare le ragazze. Contro... Patmull. Ok. Ma... Ma... Ma voglio entrare in questa scuola! Ce la voglio! Che cacchia è che succede? Anonymous story provided this video, a warning you may find this video disturbed. Cos'è? Ok. Praticamente sto dicendo prima il ragazzo senti tutta la voce normale. Adesso... Ma fatica di respirare, sembra che c'è l'asma. Che cacchia è che cacchia è che cacchia è che cacchia è che... No, no! No! No, povero gare! Ti si è faiccato il lanciallo! No, no! Tess, tanti cacchia è che cacchia è che... Non l'ho cap... Cioè, l'ho capita, però non faceva di te. Ehm... Ok. Anime. Ok. Quello che si pensa nel futuro che saranno ricchi con sfondati. Tanto che la foto è sfocata, mettono gli sposi sfocati. Non l'ho capita. Ma cosa? Da dove è uscito? Non ha alcun senso. Questa era bella. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ahaha, questa era bella! Ah, sì! Non ci ho visto! Bru, bruh, 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 bruh. Drop the drum, it's okay?! Bruh, bruh, bruh. Flying gorilla. Eh? nooo la mia faccia è andata a fa culo ma che cazzo ma cos'era dai oh my god you fucking kids I've got places to be why do you like I don't care I dump your ass cos'è scusate non lo so sinceramente però penso che sia stranger things mi sembra non ne so sicuro ma fangulo ma che cazzo fa un trampolino dai questo microfono te lo potresti anche ficcare meno in gola sarebbe il caso perché sento continuamente come se io parlassi non è bello cioè da fastidio ecco cosa c'era Shrek non ho capito ok zelda Matrix Matrix can scare me with this big dick big dick big dick big dick big dick teee vabbè incinta ue ue vc scappa dai per che palle che siete così crudelli vabbè prossima fallout 4 ma dice solo questo oh grazie al cielo no 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 non potete rovinare le tazze così e così ci ti ha sanatres ok aaaah aaaah Beh, non è che adesso vado il meglio, però... Ok? PIZZA TIME! Ma aspetta, ma tipo... Ma che cosa si lastrega, oppure... Vabbè, basta! PIZZA 3! Che fanno? Che fanno? Ma che chi corre? Ok! Mr. Bing! Dax Sustre! Non so niente! Hey, what's up? How you doing? Looking fine! Holy sh... Ok? Ma... Ok... Va bene? Ma cosa? Non ha alcun senso! Ma cosa? Non ha alcun senso! Ma c'è un minuto! Che che... No! Ok, non è vero mai! Non so cosa si... Ok? Non so che cosa era, non so... Ops! Nooo! Nooo! I KitKat mangiati così mi fanno sentire male! Crepo io! Mangiati così! Nooo! Nooo! Voi state male! Voi state bene! Cos'è di nuovo? Ma cos'è? Cosa sono questi co... Ma che poi... Lei ci abita sotto sti cosi, scuse eh! I never thought I'd say this, but Spongebob, let's get that poop! Non l'ho capita! Perché quel cammino... Vabbè, non riesco a parlare! Perché quel bambino camminando così non l'ho capita! Eeeh! Nooo! Che c'è... Mi sono preso un colpo... Raga, mi sono preso un colpo... Pensavo che fosse il mio televisore che fosse caduto addosso! Ti giuro, sembrava reali! Ricordati se era un buon ar... Ecco la pauvre, va bene. nooo nooo the union yankee bastards cannot stop us oh stop stop it that's enough you want to be part of this reenactment fine your part go 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 betcha some munitions and everything else don't just stand there like a bunch of lazy eh eh non l'ho capito toga la mossa ehi ehi bellissimo ok ehi 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 che ehi 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 i ehi 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 ciao 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 ciao